Avete tolto senso alle parole basta stupri e femminicidi. Si apre con questo slogan l'appello che la CGL rivolge ai cittadini. Anche la Camera del Lavoro di Catania ha raccolto l'invito della segretaria nazionale del sindacato Susanna Camusso. Oggi pomeriggio tutti in piazza Stesicoro per manifestare contro la violenza sulle donne. È stato chiesto appunto alle partecipanti di indossare qualcosa di rosso e di portare un libro ovviamente sulla tematica drammatica della violenza per poter estrapolare delle frasi e qualora volessero leggerle diciamo così in maniera pubblica. Dare una risposta immediata a quanto sta accadendo nel paese. La violenza contro le donne è una sconfitta per tutti. Vogliamo fatti si legge nell'appello nazionale che si può sottoscrivere sul sito della CGL con tutta una serie di richieste rivolte alla magistratura, alle forze dell'ordine e ai mass media. La CGL tramite questo documento mi permetto di dire che introduce anche così nuovi strumenti. Innanzitutto c'è proprio la richiesta formale di poter agire intorno a dei nuovi strumenti legislativi e delle nuove norme che possono per esempio curare il disagio e quindi il reinserimento della donna vittima di violenza nel mondo del lavoro. La CGL con questo documento ha analizzato come dire un aspetto della realtà importantissimo. La violenza delle donne non è in ascesa, non è in evoluzione, non è in crescita. La violenza delle donne è sistematica. Poi la richiesta finale, pesate le parole, sappiate che non si può cancellare la nostra...